a Ruggeri di Villa Vovano va in scena lo scontro salvezza fra le peggiori difese del campionato le due compagini però arrivano a questa sfida con stati d'animo diversi a differenza di quanto sta accadendo in trasferta il Ponte Vovano infatti reduce la tre vittorie consecutive davanti al proprio pubblico gli ospiti fanalino di coda del torneo vengono da 5 KO consecutivi ma hanno ottenuto gli unici due punti proprio lontani da casa prima azione degna di nota al quinto calcio di punizione di Angelo Cernaz e palla sopra la traversa la formazione ospite a dispetto dell'ultima posizione in classifica cerca di prendere in mano le redini del gioco tanta buona volontà ma pochi risultati effettivi i padroni di casa giocano di rimessa ma vanno vicinissime al gol al ventisettesimo con un lancio lungo di Gian Giacomo che imbecca centralmente Polisena che al volo non riesce ad inquadrare lo specchio della porta al trentunesimo arriva il vantaggio dell'undici di Piccioni al termine di una triangolazione che vede Polisena concludere a colpo sicuro nell'area piccola ma falso e prodigioso nell'area spinta ma nulla può sul tapin vincente di Di Stefano al terzo centro stagionale gli ospiti paiono accusare il colpo ma in chiusura di tempo sfiorano il pari quando su una punizione di Di Giovanni Gava complice il terreno di gioco non è impeccabile nella respinta ma nessun giocatore in maglia bianca riesce però ad approfittarne adeguatamente passiamo la cronaca della ripresa con l'ausilio delle immagini di Maria Carandante al quarto minuto il Villa 2015 rimane in 10 miocchi già ammonito commette un brutto fallo sulle onzi ma i rani non ha dubbi nell'estrarre il secondo giallo e di conseguenza il cartellino rosso il Villa non molla e all'undicesimo un'occasionissima con Dincecco che però spreca facendosi pilotizzare da Gava in uscita due minuti dopo contropiede del Ponte Vomano Valentino Cernaz trova sulla destra Polisena gran botta ma il palo dice no al venticinquesimo altro legno per la compagine locale con un'azione orchestrata da Faenza e Taurè entrambi entrati in campo da poche decine di secondo e conclusione di Valentino Cernaz deviata da un difensore con la sfera che va ad incocciare la traversa tre minuti più tardi arriva il raddoppio su calcio di rigore decretato per un fallo ai danni di Faenza dal dischetto va Polisena che spiazza falso realizzando la sua sesta marcatura in campionato al trentatresimo l'allenatore ospite vitale inserisce Tacchi al posto di Giuseppe Paravati che uscendo dal campo dice qualche parolina di troppo al direttore di gara che gli sventola davanti il cartellino rosso al trentatresimo il Ponte Vomano chiude definitivamente la pratica con Valentino Cernaz che batte nuovamente falso su assist di Polisena c'è tempo al novantaduesimo per la quarta rete del Ponte Vomano realizzata da Polisena servito da Taurè dopo sei minuti di recupero il direttore di gara Mairani di Firenze decreta la quarta vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico per il Ponte Vomano e la quinta sconfitta consecutiva per il Villa 2015. Mister Piccioni per mezz'ora non è stato il solito Ponte Vomano dopodiché il gol del vantaggio però vi è un pochino sbloccati. Sì non siamo partiti benissimo ma è ora una partita da una posta in paglio altissima siamo partiti contratti timorosi avevamo paura però questi ragazzi li capisco perché era una partita dentro fuori una partita che ci poteva permettere di ributtarci nella mischia oppure tornare nel baratro dopo dopo il vantaggio anche nella fine del primo tempo abbiamo faticato poi nel secondo tempo credo che dopo il 2 a 0 non ci sia stata non ci sia stata partita però non mi faccio ingannare dal risultato è stata una partita comunque dura era importante vincere per noi l'abbiamo fatto e adesso bisogna continuare perché abbiamo fatto talmente tanto poco prima che per per arrivare al nostro obiettivo ci manca ancora tanto. Oggi non abbiamo creato molto a dire la verità anzi dal mio punto di vista abbiamo fatto una brutta partita secondo me nelle partite precedenti abbiamo creato veramente molto di più rispetto ad oggi però siamo poco cinici poco cattivi sotto porta e questa è una cosa che paghiamo molto non sono soltanto le ultime quattro giornate ma è lungo tutto il percorso del campionato meritiamo sicuramente più 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 punti ma non possiamo guardarci indietro non c'è tempo per questo bisogna soltanto lavorare da martedì abbiamo questo aiuto alla società al mister come squadra dobbiamo riunirci e avere una reazione il più presto possibile